Siamo qui e siamo veramente estasiate, stiamo setacciando il territorio letteralmente. Siamo molto molto contenti, era 15 anni che mancavamo, anche dopo tre anni e mezzo per via della pandemia, per cui insomma tutto un po', quindi il primo viaggio un po' più lungo, però molto contente. Adesso andremo a visitare la Cappella Baci di Piero della Francesca e quindi ottimo, non posso dire altro. Arezzo è ormai una meta turistica conclamata anche nei periodi di bassa stagione, ancora più ovviamente in questo weekend pasquale che si profila da tutto esaurito. Arezzo è ormai una meta conclamata dal punto di vista turistico, lo dicono i dati che riguardano l'occupazione media delle camere nelle strutture ricettive. Nelle strutture il tasso di occupazione che adesso c'è sul venduto, per motivi scaramantici diciamo che è superiore al 90%, ma non dubitiamo che questo possa arrivare tranquillamente al 100%. Tra le mete più ricercate in testa c'è la Cappella Baci, ma anche la Pieve, il crocefisso del Cimabue, il Duomo e i luoghi della vita è bella. Eh sì, infatti, bellissimo, infatti si sente anche la musica della vita è bella che risuona ogni tanto. Comunque io vengo da Torino e appunto sono venuta a trovare Paola che è aretina. Io sono Davora, sono di Vicenza, è molto bella, molto carina e poi abbiamo una guida che ci aiuta a capire i dettagli, le cose che magari non si vedono nelle guide per turisti. Siamo andati alla Pieve, grande fan della Pieve, poi facciamo il giro, si è aperta la confraternita dell'Aice e volevo portarli su. Poi in casa del Petrarca, a Duomo, domani si fa l'anfiteatro, poi le porto un po' in giro. Sì, sono stata nell'88, non mi ricordavo niente e sono tornata con molto piacere perché è veramente una città che, cioè, come vederla la prima volta. Venite ad Arezzo, tutti!